Iofica in Rosetta impegnata domenica alle ore 18 in trasferta a Campostico, quello di Sala Consilina che nel match di andata sconfisse proprio i Biancazzurri, fece lo scalpo proprio ai Biancazzurri qui al Palamaggetti con un canestro all'ultimo secondo, intanto obiettivo numero uno ovviamente continuare a vincere e ovviamente rifare lo scalpo ai campani rispetto al giro di andata Esatto, sappiamo bene com'è andata la partita di andata, c'è ancora un po' di amaro in bocca quindi sicuramente andiamo giù coltello fra i denti per portare la partita a casa e vincerla Marco ovviamente è importante la gara di domenica perché arriverà una settimana prima del big match che ci sarà sette giorni dopo, qui al Palamaggetti con Ruvo Sì sì sì, ma come dico sempre ogni partita è importante, la classifica è corta quindi domenica sarà una partita difficile e importante, la domenica dopo ancora di più perché ci sarà il match contro Ruvo di Puglia Ovviamente l'arrivo di Alexa Nicoli ci ha proiettato tanti fari sulla Leofilk e Rosetta ecco, che tipo di giocatore hai trovato dopo i primi allenamenti insieme a lui? Ma è ancora presto, abbiamo fatto solo due allenamenti dovrà inserirsi bene lui nella squadra, sicuramente è un giocatore di livello è importante per noi e speriamo che ci darà tanto nel gioco Grazie a tutti!